Ciao artista, qui su Artista Dentro oggi un nuovo video dedicato all'apparato fonoarticolatorio. Tutto dopo la sigla! Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanella e commenta, lascia like ai video che ti piacciono e diffondi il canale Artista Dentro. Dai una sbirciata anche al nuovo canale Twitch Artista Dentro e vai a curiosare sui miei social, mi trovi come Letizia Dispare. Oggi vediamo un nuovo focus per quanto riguarda la comunicazione, l'apparato fonoarticolatorio e la dizione. U, O, O. La O è una vocale che ha la pronuncia aperta e la pronuncia chiusa. All'interno del canale YouTube sul quale sei approdato e che magari segui da tempo ci sono già video dedicati all'addizione e all'apparato fonoarticolatorio. Mi preme tornare su questo punto e su questo argomento perché è molto difficile, se non fa già parte di voi, andare ad articolare bene e a capire bene la differenza tra la O aperta e la O chiusa. Spesso si pensa di aprire bene la bocca e di chiudere bene la bocca, quando in realtà visti dall'esterno la questione non è così cristallina come pensate. Per questo vi consiglio sempre di guardarvi allo specchio e di vedere in modo molto onesto e di correggervi da soli per raggiungere l'obiettivo. Tutti i giorni guardatevi allo specchio ed emettete una U con le labbra molto chiuse. Per arrivare a pronunciare la O chiusa e arrivare a creare un movimento fonoarticolatorio corretto e utilizzare bene le labbra, utilizzare bene l'impostazione, lasciate l'impostazione delle labbra di quando emettete e pronunciate la U che è una vocale che ha una sola modalità di pronuncia chiusa quindi dalla U senza muovere la bocca, le labbra, rimanendo fermi andate a pronunciare la O chiusa in questo modo. Le labbra non si muovono, la chiusura e la fessura grazie alla quale esce l'aria ed esce il suono rimane praticamente identica. È chiaro che poi quando si andrà a parlare e a pronunciare una parola con la O chiusa, la bocca non sarà proiettata verso questo, ma sarà una O chiusa molto più sciolta e molto più morbida. Ma come vi ho già detto in altri video, quando si è in fase di studio per apprendere il movimento, per sentire il suono e la sonorità, è bene forzare ed esagerare questo aspetto. Quindi quando devo aprire, apro tanto e quando devo chiudere, chiudo il più possibile. Poi passiamo alla O, O. Spesso si ha idea quando si fanno gli esercizi di aprire la bocca, ma in realtà O, O. È un'apertura piccola. Invece no ragazzi, si deve aprire il più possibile. O. Come faccio ad aprire la O? Ti metti davanti allo specchio, O. Apri. L'idea di avere una patata in bocca, una mela in bocca, qualcosa che scotta, ti proietta già verso l'apertura. Ti può aiutare a passare dalla A, che è un'altra vocale che ha solo la pronuncia aperta, alla O. A, O. A, O. A, O. Quindi è molto facile poi entrare nel meccanismo. Quello che ti consiglio è O, U, O. E ancora U, O, O. U, O, O. Esercitati tutti i giorni davanti allo specchio, finché la pronuncia di queste tre vocali non ti sarà molto molto facile. Arrivando a pronunciare la O senza dire prima la U. Quindi lo step successivo quando avrai appreso tutto il primo bagaglio di esercizi allo specchio è quello di passare da O, 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 O. E attenzione, quando si pronuncia una vocale pronunciamo esattamente quella vocale. Registriamoci col cellulare, registriamo l'audio di quello che stiamo facendo dell'esercizio per renderci conto se effettivamente stiamo pronunciando una U e una O. Spesso si cambiano senza neanche rendersene conto. Si pensa di dire una O e invece si dice qualcos'altro. Succede spesso anche con la I, ma poi vedremo questi casi in altri video dedicati all'apparato fonoarticolatorio e all'addizione. E non ti preoccupare delle rughe di espressione che possono arrivare sulle tue labbra perché più è una questione mentale. Non starai tutta la vita a fare questi esercizi. Ti dico questo perché mi sono arrivate delle domande proprio su questo argomento. Ma se io faccio gli esercizi fonoarticolatori poi mi trovo con le rughe. No! Se fai gli esercizi fonoarticolatori avrai un modo di comunicare bello, comprensibile, consapevole e che fa davvero la differenza. Soprattutto se vuoi entrare nel mondo dello spettacolo e diventare un attore e un artista in grado di amaliare con la sua voce, con la sua tecnica vocale, parlate con la sua dizione. È davvero importante e fa la differenza. E ripeto, sono esercizi che una volta appresi verranno abbandonati e magari ripresi per questioni molto molto specifiche e molto definite. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci vediamo al prossimo video. Live with passion always. Alla prossima. Ciao! Ciao!